Di Piero giunta. Dopo il derby di mercoledì contro il Ragusa Calcio, la Virtu si spica questo pomeriggio torna di nuovo in campo al Salvatore Consales di Rosolini, contro il Città di Siracusa per l'undicesima gara di campionato di eccellenza Girone B. La quasi centenaria squadra giallorossa potrà finalmente riabbracciare i propri tifosi e sportivi spicesi. Infatti la partita si giocherà a porte aperte. Una gara non facile per la compagine giallorossa allenata dal duo Peppe Trigilia e Alfonso Adamo. Bisogna metterci, come a noi piace dire, cuore giallorosso, testa e gambe per affrontare nelle condizioni ottimali la gara davanti al pubblico amico che oggi, siamo sicuri, riempirà gli spalti del Consales e non farà mancare il sostegno alla squadra dal primo all'ultimo minuto. Ci dicono il team manager Gianni Rustico e Mr. Peppe Trigilia, entrambi di sangue giallorosso che circola nelle vene, che la squadra deve scendere in campo con la giusta concentrazione e deve dare il massimo senza timore reverenziale, giocando alla pari contro la squadra siracusana allenata da Peppe Mascara. Il città di Siracusa arriva a questo appuntamento dalla vittoria interna contro il città di Via Grande per 4 a 0. Dirigerà la gara il signor Luca Naselli della sezione di Catania, coadiuvato dai signori Nicola Conticello e Salvatore Rubino della sezione di Catania.